Ciao a tutti, eccomi con un video dedicato all'edicola Uppi doki squishy L'ho appena comprato in edicola e costa 5 euro Questa volta fortunatamente è trasparente e quindi si può scegliere il personaggio preferito Ho visto che c'erano parecchi personaggi, gattini, pure altri animaletti Ho visto, adesso erano unico tipo funghetti pure Però a me piaceva l'orsetto sirena e fortunatamente nella satola l'orsetto sirena c'era, era unico Ecco, si vede, si intravede nella bustina trasparente E poi in allegato c'è sempre il giornalino, si chiama Bim Bum Bam Come la trasmissione di tanti anni fa E vabbè, ci sono i giochi, ci sono i fumetti Apriamo subito lo squishy Perché l'altra volta c'era la possibilità di trovare questo Però era difficile perché non si vedeva Io adesso essendo la busta trasparente finalmente non ho scelto il personaggio che più piace Eccolo! Mmm, bello profumato Eccolo! Vediamo, si! Squishoido! Non lo voglio troppo stringere perché mi fa pena Ho paura che poi si deforma Un bello, un bel profumo, dolce Quindi un ossetto sirena Allora, la pelle è tutta rosa Mentre la coda è azzurra Le pinne un verdino In testa ha come una torta in effetti Sembra un cupcake Di sfumatura blu e viola E poi c'è anche i capelli che poi sembra una crema che scende in effetti Vabbè, verde E questo è il suo faccino Molto tenero Bello morbido Morbido Bellissimo Sono contenta che Sono riuscita a trovare questo personaggio Che l'altra volta c'era ma era difficile perché le buste non si vedevano E quindi Invece così Finalmente uno prende anche 5 euro Si spendono 5 euro Ma almeno si sceglie il pupazzo che uno piace Ecco C'erano parecchi careucci Devo dire la verità Però questo Sono andata con quel pensiero Quando ho visto Ho detto No, vediamo se c'è lui Bene, meno male Quindi in eticola si trovano Ah, c'è anche un'altra cosa Ah, c'è anche il libricino in miniatura Praticamente sì È uguale a quello grande Soltanto che in dimensioni più piccoline E quindi stavo dicendo in eticola Quindi c'è la possibilità di trovare Gli squishy Pappidoki squishy Della città boom Con la bustina trasparente Così uno si sceglie il personaggio preferito Perfetto Io vi saluto E al prossimo video Ciao ciao Ciao